La pioggia caduta nel pomeriggio ha reso l'aria umida, ma non ha tenuto lontana la gente dal centro di Alatri, dove in migliaia si sono ritrovati la sera del venerdì santo per la rievocazione della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Non una recita, ma una processione in costume ed epoca, alla quale hanno dato vita oltre 500 figuranti. Vestiti realizzati in base alle ricerche più approfondite, con una cura tale che spesso le grandi produzioni televisive e cinematografiche negli anni hanno bussato alla porta della proloco di Alatri chiedendoli in prestito. La rievocazione storica di Alatri è insomma una lunga processione laica nella quale vengono rappresentati i momenti centrali delle sacre scritture religiose. Dalla creazione con Adamo ed Eva per passare a Caino e Abele, il sacerdote Melchisedec che per primo offri a Dio pane e vino e poi Abramo con il figlio Isacco a ricordare il sacrificio che rappresenta la fedeltà e la dedizione assolute a Dio e prefigurava quello di Cristo sul Calvario. Ma anche Giuseppe venduto dai fratelli in Egitto il suo perdono che spalanca le porte del regno agli ebrei. Mosè che secoli dopo libera il suo popolo e lo conduce verso la terra promessa con un viaggio nel deserto lungo 40 anni, l'arca dell'alleanza e la manna dal cielo. Re Davide autore della profezia secondo la quale i centurioni si sarebbero spartiti ai dadi secoli dopo, le vesti di Cristo. Geremia della tribù di Beniamino, profeta inascoltato che porta il libro delle lamentazioni preceduto da una lunga fila di donne vestite di nero e con una lucerna accesa, segno di speranza. Ma anche Isaia, San Giovanni seguito da Salome che danza e in cambio chiede a re Erode la testa del Battista. Il miracolo della vedova di Naim, pilato con il conflitto tra la legge degli uomini che imponeva la crocefissione e quella morale che gli faceva trovare Cristo senza alcuna colpa da punire con la morte. Barabba, vestito ancora da condannato a morte incapace di comprendere il mistero a cui partecipa. E poi Giuda che conta i 30 denari, Caifa attorniato dagli altri sacerdoti del tempio, la Veronica e i ladroni, un Gesù interpretato magistralmente da Simone Desiato seguito dal Cireneo, da Maria sostenuta dall'Apostolo Giovanni e Maria di Magdala, i discepoli sparpagliati e confusi per quanto accade, Pietro con le chiavi della Chiesa, Giuseppe di Arimatea e la Sacra Sindone, ma anche i canti del Miserere e dello Sabbat Mater per culminare nel repentimento di Giuda, rappresentato quest'anno da un testo nuovo che scava nell'anima dello spettatore. E infine la crocefissione e la straziante rivisitazione del testo di Jacopone da Todi. Il tutto spiegato in diretta con impareggiabile competenza dello storico professor Gianni Boezzi ha registrato eccellenti punte d'ascolto nel Lazio, in Abruzzo e in Molise grazie alla diretta assicurata da Teleuniverso. Per chi l'avesse persa, la prossima replica è domenica alle 14.30.